Questo tribunale condanna la vittima alla ghigliottina, imputazione e rottura di coglioni perpretata ai danni del barone Parsi Falbezzi, figlio di donna Clotilde e del generale Augusto Bezzi. E' stata una disgrazia, non riesco a immaginare di non averlo più con me. Complimenti. Signorini, mi rispetto per la scompassa. Firmezzito. Storpi e struso. Mamma, io e te stiamo bene insieme ora, non credi? E' inutile che ci prendiamo in giro. Ti rendi conto, ma se va male sono fottuto. E' l'ultima speranza che mi è rimasta. Alza io. Su, lascialo. Lascialo, ho detto. Senti, te la faresti questa? Ma i preti pensano a queste cose? I preti, i rappresentanti di Dio, non possono avere difetti fisici. Lo sai, lo hai studiato. Brunita vorrebbe che ti levassi i pantaloni e magari le mutanti. Visto che serve i miei madre e Parsifal, se te lo ordinassi dovresti renderti utile anche a me, non trovi? Allora vediamo. Come prima prestazione ho una cosa facile, un parere. Ti piacciono queste mutandine? Povero bambino, gli è stato parlato più del diavolo che di Dio. Che cosa sei venuto a fare? Potevi anche restare a Tolosa. Non abbiamo più bisogno di te ormai. Vattene! No, no, no! Grazie.